Ciao, sono Joy! Sai che oltre a garantirti scientificamente le arance più succose, possiamo renderti parte di una filiera sostenibile? Scegliendo le arance dei succosi, non solo potrai avere le migliori arance da spremuta tutto l'anno, provenienti da coltivazioni certificate e garantite, ma ci aiuterai anche a rendere il pianeta più verde, piantando nuovi alberi. In più, utilizziamo packaging sostenibile e riciclabile, confezionando le nostre arance grazie a energia da fonti rinnovabili.